Gentili telespettatori, buona giornata. Il ministro Valditara ha contestato durante la presentazione di un libro. La presentazione a Roma del libro del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, con presenza di Matteo Salvini, La scuola dei talenti, quindi non un libro, per parlarci chiaro, non è il libro di Vannacci che stanno presentando, che può essere divisivo, un libro dal titolo La scuola dei talenti, cioè è un libro dove si parla probabilmente di merito. Società meritocratica dovrebbe essere l'ambizione di tutti, non il nepotismo, ma il merito. No, finisce in bagarre, perché durante il dibattito alla libreria Mondadori in piazza Cola di Rienzi a Roma, una studentessa e lo scrittore e insegnante Cristian Raimo hanno infatti provato a dibattere con il ministro che piccato ha liquidato le polemiche come propaganda. La studentessa della rete degli studenti medi, voglio partecipare anch'io agli studenti medi, a un ex studente medio, medio man, io ero uno studente medio, una capra, alle superiori ero una mezza capra, quindi probabilmente sarei stato il capo degli studenti medi, vabbè. La studentessa della rete degli studenti medi ha criticato l'inasprimento delle pene per chi occupa gli istituti scolastici. Il ministro inasprisce le pene, ma non dice una parola contro chi ha manganellato i ragazzi a Firenze, Pisa e Catania. Eccoci qua, cadiamo sempre in questo tipo di polemiche. Raimo ha invece criticato il sistema di voto che cambierà alle scuole elementari che prevede che i bambini possa essere messo il giudizio gravemente insufficiente. Ebbè è anche giusto! Io quando ero alle elementari mi davano... c'era, mi ricordo, gravemente insufficiente, insufficiente, quasi sufficiente, che era praticamente dal 5 al 5, quasi sufficiente, poi c'era sufficiente, più che sufficiente, discreto, buono, più che buono e ottimo. E' una roba più... magari mi sono dimenticato qualche passaggio. Oh mamma, sono rimasto così traumatizzato, eh! Eeeh, mamma mia! Roba da psicologo! Quindi se tu dai a un bambino gravemente insufficiente, dicendogli praticamente non hai studiato, ti ho detto di studiare per il giorno dopo, ti sei presentato e non hai studiato, ti do gravemente insufficiente, oh mamma, mi traumi il ragazzino, la ragazzina. E invece questo è giusto, perché non puoi... no, tu non devi dire niente allo studente, se tu non dici niente allo studente, se tu non gli puoi mettere l'insufficienza, ma gli devi mettere sempre che hai fatto, devi dirgli sempre che hai fatto un buon lavoro, magari potevi fare un pochino meglio, ma non ti preoccupare, non ti traumatizzare, potevi fare un po' meglio. Ma tranquillo, sei stato fantastico e magari non ha risposto a niente perché il giorno prima ha giocato tutto il tempo con i videogiochi. Ecco, se già siamo pieni di ignoranti totali in Italia, c'è un livello di ignoranza che è spaventoso, se in più cominci a non dare più i voti, perché poverino, il bambino mi si trauma. Voi vi siete traumati all'elementare quando vi davano gravemente insufficiente, o quando alla scuola media ti davano due, due perché non avevi studiato niente, uscivi col diario, quello ti metteva due, portalo a casa e fallo firmare. Io quante volte ho preso cinque e mezzo, sei più, evviva, sei più, sette, per me sette era già... io non mi sono mai traumatizzato, anzi ero consapevole di non essere proprio un fantastico studente, insomma. Invece cosa dovevano fare? i professori dovevano dirmi che ero un genio della lampada, non ti preoccupare, se mi avessero sempre detto sei, sette, otto, mai un'insufficienza, io avrei studiato sempre meno, fino a non studiare proprio niente, tanto poi il professore ti deve sempre promuovere, non ti può dire niente se no ti traumatizzi, no? Ecco, quindi a me e a voi, se non avessero dato i voti, avremmo studiato sempre meno, sempre sempre meno, e il livello della scuola sarebbe andato sempre più giù. Quindi caro Raimo, ma cosa dici? Mi si trauma il bambino se gli metti gravemente insufficiente, è formazione di vita, scuola di vita, presentare a bambini e bambine un mondo che non esiste, un mondo che non esiste, poi arrivi al primo giorno di lavoro e c'è il datore di lavoro che ti insulta, ma come? Fino ad adesso per non traumatizzarmi mi hanno detto che ero un genio, arrivo sul mondo del lavoro e c'ho i colleghi che mi invidiano, odio, rancore, livore, il capufficio che mi insulta, che mi fa mobbing, cioè per perché creare un mondo che non esiste al bambino o alla bambina e non dargli quattro perché poverino mi si traumatizza il bambino? Beh, insomma, e poi dire che la scuola non deve avere il merito perché dobbiamo essere tutti uguali, uno vale uno, vuol dire sprofondare ancora di più l'ignoranza che c'è a scuola, ma dai uno vale uno, un bambino che è un genio deve essere portato in un percorso per geni, uno vale uno, siamo tutti uguali, e no, e no, e no, e no, e no, 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 sto politicamente corretto portato all'eccesso è la rovina della società, la rovina. Se uno è da dieci e l'altro è da due che non studia e che viene bocciato ogni anno, secondo questa gente qua, quello che prende dieci e quello che prende due devono prendere uno otto e uno dieci, tutti e due dei geni, poi quello che prende dieci è veramente bravo, quello che prende otto non ha mai studiato, non è capace neanche a parlare in italiano, ecco, e poi presenta nel loro curriculum in un'azienda e dice uno vale uno, siamo tutti bravi, siamo tutti geni, siamo tutti diplomati, laureati, con la licenza elementare, la licenza media, è questa davvero la società che vogliono questa gente che va a gridare alle presentazioni dei libri? Davvero volete una società senza meriti? Dove uno vale uno? Dove mettiamo poi i politici per caso in Parlamento? Mettiamo a gestire le aziende gente a caso? Mettiamo a fare i professori universitari gente a caso presa per strada perché uno vale uno? Tu prendi il primo che passa e lo mandi a insegnare diritto europeo perché uno vale uno? Studiato o no siamo tutti uguali? Insomma, questo è proprio il modo per sprofondare questa società sempre di più, le cose stanno sempre più andando verso il basso. Quindi quando vedo questi filmati di questi ragazzi che gridano contro gli altri perché la rete degli studenti medi, Speterina, non è propriamente un vanto essere dentro la rete degli studenti medi, uno dovrebbe cercare di puntare verso l'alto, non di dire io sono fieramente medio. Almeno io la penso così, poi i sinistri in questo momento staranno gridando, cosa dici? Mostro! Eh, sono un mostro, e cosa volete? Cosa volete fare? Ho 50 anni, la vedo come quando ero piccolo a scuola col presepe, il crocifisso, il quattro che mi arrivava gravemente insufficiente e non hai studiato, la nota sul diario, e non mi sono mai traumatizzato, eh? Mai, mai traumatizzato, anzi, ho capito ai tempi che non ero proprio un grande studente. Arrivederci a tutti e grazie.